Arriva il Giro d'Italia in città e tutto deve essere pronto per il corretto svolgimento della manifestazione, ma anche per evitare il più possibile i disagi e la popolazione sul fronte di soste e viabilità. Subito un consiglio, chi può, utilizzi i mezzi pubblici, tangenziali e strade periferiche per evitare imbottigliamenti. Due le giornate interessate in particolare, giovedì 27 maggio per l'arrivo della carovana, venerdì 28 per la ripartenza. Per giovedì 27 si è decisa la chiusura al traffico di via 20 Settembre, zona del traguardo, già dalle 8 del mattino e la totale interdizione alla sosta dalle 22 del mercoledì sera. Per consentire il deflusso del normale traffico cittadino verrà per questo istituito il doppio senso di marcia in via Solferino. Per quanto riguarda le strade del percorso d'ingresso in città, via Le Sant'Eufemia, via Le Bornata, via Le Venezia, via Piazza Arnaldo, via Spalti San Marco, via Vittorio Emanuele, via San Martino della Battaglia, via Mazzini, Galleria Titosperi, via Lombroso, via Pusterla, via Da Vinci, via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica e piazzale Cremona, la circolazione sarà consentita fino alle 15 di giovedì, ma la sosta sarà vietata già dalle 8 del mattino. Si garantiranno il più possibile gli attraversamenti. Nella zona di piazzale Arnaldo, poi, sede del villaggio del Giro, la sosta sarà interdetta dalle 22 di mercoledì 26 maggio. Per facilitare i bresciani che portano i figli nelle scuole del centro, questi istituti chiuderanno alle 14. Un'area camper è stata inoltre allestita nella zona di via Maggia per coloro che seguono il Giro con questi mezzi. Minori i disagi su venerdì 28 maggio, perché saranno limitati alla zona di piazzale Arnaldo, dove è previsto il raduno, e lungo il percorso che conduce in via Valle Camonica, dove è fissata la partenza della tappa successiva verso l'Aprica. Per chi volesse ulteriori delucidazioni, dal lunedì sarà attivo il numero verde 800 401 104.